La mia opera è contraddistinta da un istintivo e profondo odio verso lo stato in cui vivo e con questo intendo lo stato di cose e lo stato nel senso politico della parola, vale a dire lo stato capitalistico piccolo borghese che io ho cominciato ad odiare fin dall'infanzia. Il successo non è niente, il successo è l'altra faccia della persecuzione, appena ottenuto il successo per un uomo è una cosa brutta.